Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video outfit ispirato alla richiesta di una mia iscritta come versirsi per un primo appuntamento. Ora io non sto andando a un primo appuntamento, sto uscendo per andare a vedere le stelle. Allora, ho questo abitino nero carino che è di mango, che mi piace tantissimo, e in vita ci ho messo una cintura. Puoi mettere una cintura magari non troppo estrosa, ecco, in questo caso. Mentre ai piedi, mentre ai piedi ho messo le mie scarpe, che sono fatte in questo modo. Voilà. E se va freschetto mi porto dietro una giacca, che è questa qui che è bellissima, stupenda. Con queste cerniere oro meravigliose. Il mio consiglio è quello di essere carine, quindi di non uscire in tutta la ginnastica, però con un outfit che ci possa rispecchiare. Quindi una via di mezzo tra quello che siamo, tra la nostra parte, tra virgolette, sportiva e quella elegante. Senza strafare, più che altro per sentirci anche a nostro agio e non sembrare dei sacchi di patate, delle persone che inciampano mentre stanno camminando dappertutto. Se non siete abili con i tacchi, metteteli bassi e belli quadrati, quindi che, come dire, riescono comunque in qualche modo a mantenere un certo equilibrio. Quindi non mettete i tacchi vertiginosi se non li sapete portare, perché se cadete fate solo figuracce, non è il caso. Quindi sì, una via di mezzo tra... Io vi consiglio il total black e in questo caso ho scelto per una giacca fucsia, ma potrebbe essere un altro particolare come una cintura fucsia, oppure una borsa colorata. Insomma, date un tocco di colore, però fate un total black e poi portatevi dietro un particolare colorato. E niente, questo è tutto. Io spero di averti dato qualche suggerimento e fammi sapere tu come ti sei vestita al tuo primo appuntamento, oppure come ti vestiresti qui sotto nei commenti. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!